guido montauti ho fiducia nella mia fantasia è un progetto per riscoprire attraverso una mostra visitabile dal 19 dicembre al prossimo primo maggio nelle sale dell'arca teramo il montauti pittore l'uomo la sua storia e la sua fantasia un percorso artistico e personale ma anche un segnale di rinascita il progetto promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'accademia raffaello di urbino e sostenuto dalla fondazione tercas ed è organizzato e coordinato dall'associazione culturale big match curatori della mostra di guido montauti uno dei pittori più importanti della provincia di teramo del novecento ida quintigliani e umberto palestini in sinergia con i familiari dell'artista ho fiducia nella mia fantasia è una mostra di guido montauti che ripercorre il suo itinerario artistico ed estetico ma lo fa attraverso anche le sue parole le sue voci è un modo di guardare nuovamente a guido montauti che ci offre davvero uno spaccato di un autore moderno internazionale lo stile di montauti è uno stile che si genera nei periodi inizialmente più legato a una forte matrice simbolica una morte una matrice sanguigna come viene definito per poi stemperare le sue analisi formali all'interno di una cromia completamente più diciamo leggera uniforme per poi esplodere alla fine con i grandissimi pezzi colorati e arrivare alla sintesi del bianco che lui considera un'estasi grazie